Assessore, ennesima discarica abusiva trovata nella zona industriale di Montelabate, ecco ci puoi spiegare la situazione? Tutto nasce venerdì da una segnalazione di un cittadino, una segnalazione che ha riportato sui social, io me ne sono accorto sabato mattina, comunque mi è stato segnalato sabato mattina questo post, domenica con il vice sindaco ci siamo subito precipitati sul luogo per capire qual era l'entità di quanto era stato riversato in questo piazzale qua. Sono state depositate una serie di tapparelle, probabilmente nascono da una ristrutturazione di qualche casa, tra l'altro anche tapparelle colorate che forse adesso quando gireranno le immagini magari qualcuno li si potrà accendere la lampadina da quale ristrutturazione provenivano. Per cui insomma, a parte la denuncia sui social che è stata fatta immediatamente, lunedì mattina mi sono confrontato con Marche Multiservizi che subito ha deciso di intervenire, cosa che è stata fatta poi prontamente, proprio questa mattina effettivamente sono stati eliminati tutti i rifiuti. Tra l'altro va ricordato che c'è un regolamento comunale che appunto vieta il deposito di rifiuti a cielo aperto, voglio anche prendere qualche estratto di questo regolamento cosicché i miserabili capiscono di che cosa abbiamo a che fare. L'articolo 12, il comma 1 che è quello più importante, chiunque violi queste disposizioni sarà punito con una sanzione amministrativa che va dalle 50 euro penso ad esempio a chi butta una carta per terra, fino alle 500 euro che in questo caso sicuramente queste saranno, verrà applicato se riusciamo a trovare chi è stato. Contiamo anche di utilizzare, qua ci sono molte fabbriche, quindi le telecamere di vigilanza se è possibile per appunto riuscire a capire chi si è comportato così in maniera così malavente. È chiaro che rilasciare a cielo aperto, alle interperie, i rifiuti in particolar modo come in questo caso quegli plastici fa in modo che alla fine si creano quelle microplastiche che vengono rilasciate sia nella matrice terreno sia nella matrice acqua e che poi in un modo o nell'altro ritroviamo, ritornano sempre a noi attraverso gli alimenti. Marche Multiservizi è stata a Celere nel venire subito a ritirare questi rifiuti e che ringrazio, ma è un'azienda, non fa nulla per nulla, questo qua sarà un costo, un costo che spetterà a tutta la collettività purtroppo, quindi lo ritroveremo tutti noi nella bolletta tari che andiamo a pagare ogni anno. Ecco perché l'hanno fatto questi cittadini, perché per non accollarsi direttamente questo costo che sarebbe stato, io penso non più di 100 euro probabilmente se lo andavano a portare in discarica, e invece questa cifra che sarà molto maggiore, il fatto che è dovuta intervenire l'azienda con un mezzo apposta per riuscire a ritirarli, un costo che sarà sicuramente maggiore e che verrà ripartito tutta la collettività. Quindi, signori miei, per l'atteggiamento di questi qua, di questi personaggi, pagheremo noi tutti i cittadini di Montalabate.